Sono Fabio Gargiulo, sono consulente e formatore dell'Università della Cucina Mediterranea, non ho una pizzeria. Oggi ho deciso di presentare una pizza di cereali, cereali antichi, quindi cereali molto nobili, con della mozzarella di massa lubrense e arricchire il tutto con un limone di massa lubrense del capo. Un limone stagionato, cioè voglio dire maturato a 14 mesi, quindi molto lentamente. L'olio essenziale si esalta ancora di più. Ma la zona sorrentina è in primis. Allora, sicuramente è una bella scelta. Allora, adesso sentiremo che cosa ne pensano i nostri giurati su questa pezza di questo bravissimo maestro, il numero 9, che si chiama Fabio Gargiulo. Bene, il tuo commento? Sì, sicuramente sono dei saponi molto accesi, soprattutto grazie ai cereali, una maturazione. Il condimento è abbastanza equilibrato. Bravo. Bene. Allora, cosa dici tu? Complimenti anche per l'azzardo di cereali, che comunque è bello, si sente il sapore dell'impasto. È ottimo il condimento, ottima pizza. Vorrei sapere se si sentono tutti i 14 mesi della stagionatura di questi limoni. Hai sentito, lui, come ha sottolineato il tempo dei limoni, i 14 mesi e tutto. È la particolare del limone, si sente tutto? Infatti caratterizza molto questa pizza, è veramente, veramente un prodotto buono, è veramente una cosa, una chicca, ecco, chiamiamola così. Allora, aspetta, aspetta, esaltare i cereali? Il limone, cioè esalti i cereali con il limone e esalti il limone con i cereali. Un doppio pinamento. Bravo, bravo. Va benissimo. Allora, diciamo questo che, allora, quello che diceva appunto Sabato Leronello, che diceva la differenza tra gli altri concorrenti, è stato il primo, Fabio, Fabio, degli otto presenti, questo è il nono, che ha cotto la pizza nel forno a legna. Grazie.